Buonasera a tutti, il mio nome è Roberto Larocca, mi spiace non poter essere presente con voi in questa importante serata, ringrazio comunque Andrea per l'opportunità offerta a Vorafon e ha sottoscritto di essere presente a questo importante evento. Vorafon opera in più di 20 paesi, come sapete siamo uno dei più importanti operatori di telecomunicazioni nel mondo e stiamo osservando diversi cambiamenti nei confronti delle nostre operation, i clienti stanno cambiando il loro modo di interagire nei confronti delle nostre aziende, vi do alcuni dati solo per introdurre l'argomento, oggi come oggi due terzi, noi stimiamo che due terzi dei clienti che acquistano dei prodotti e dei servizi da noi usino il cosiddetto ROPO, Research Online, Purchase Offline, quindi si informino tramite i canali digitali prima di recarsi in un punto di vendita per un acquisto, o il nuovo trend è quello che viene chiamato il reverse ROPO, quindi addirittura vanno nei negozi per toccare con mano i prodotti, i nuovi lanci e poi acquistano offline, quindi in un canale digitale. Un altro importante cambiamento è che il 70% dei clienti che oggi visita i nostri negozi nel mondo, noi abbiamo più di 8 mila negozi nel mondo, il 70% di loro entra nei nostri punti di vendita essendo già cliente Vodafone ed entra per chiedere servizio, per chiedere aiuto, non per comprare nuovi prodotti. Quindi Vodafone più di un anno fa ha deciso di introdurre una grande trasformazione che ovviamente parte dal digitale e che chiamiamo con uno sforzo di estrema fantasia Digital Telco. Parte dal presupposto di strategicamente unire due elementi fondamentali della nostra attività. Noi dobbiamo sicuramente migliorare come Vodafone la nostra capacità di offrire servizi in digitale ai nostri clienti, ma vogliamo farlo in quello che chiamiamo il blending del nostro modo di lavorare, quindi human touch, per riuscire a offrire il meglio del mondo digitale e del mondo non digitale integrati ai nostri clienti. Gli obiettivi di questa Digital Transformation sono molto chiari. Il primo è migliorare l'NPS, quindi la soddisfazione dei nostri clienti. Siamo convinti che attraverso nuove operazioni, unendo il digitale e il mondo offline, riusciremo anche a aumentare i nostri ricavi. Il mondo digitale nasconde opportunità molto importanti che ancora come operatori non siamo riusciti a individuare. Bottom line sicuramente non nascondiamo di avere anche un obiettivo di migliorare quella che è la profettabilità delle nostre aziende. Digital Telco è il nome del progetto, che ha come dire, un sub-brand, un suo brand interno che noi definiamo One Channel. One Channel ha un chiaro obiettivo di voler offrire un'esperienza al cliente totalmente integrata tra il mondo digitale e il mondo offline. In poche parole riuscire a sviluppare una customer experience che permetta al cliente di avere un'esperienza cliente con Vodafone cosiddetta seamless, quindi la possibilità di cominciare un'interazione che sia di vendita o di servizio in un canale e poterla terminare in maniera seamless anche in un altro canale. Uno dei pilastri della nostra One Channel o Digital Transformation è quello che noi chiamiamo la Digital Sales Assistance. Come assistere i nostri clienti che iniziano un'interazione nel mondo digitale, può essere dal nostro sito oppure dall'app di Vodafone, in modo da creare e mantenere un rapporto umano caldo vicino, pur partendo da un canale digitale, è sicuramente un pilastro veramente importante della nostra trasformazione e su cui evidentemente anche un'azienda come Invenzia sta collaborando con alcune nostre operating company. un altro pilastro importante del progetto è il cosiddetto Big Data, per poter essere ancora più vicini ai clienti, non per spiarli come qualcuno dice, ma per poterli analizzare ed essere rilevanti nel modo di formulare nuove offerte utili e rilevanti per loro. Capite bene che questa parte del progetto è completamente integrata con One Channel, quello che ho detto prima, perché più riusciremo a essere rilevanti, più riusciremo a essere personalizzanti in termini di offerte ai nuovi clienti e più evidentemente la soddisfazione e il ritorno, anche per la nostra azienda, potranno essere significativi. Io ho recentemente completato 23 anni di permanenza in azienda Vodafone, di cui 17 in Italia e negli ultimi cinque vivo qui a Londra e mi occupo di attività commerciali a livello globale per il gruppo Vodafone. Quindi non ho più forse una fotografia chiara di dove sia oggi l'Italia in termini di rivoluzione o innovazione o evoluzione digitale. Quello che però continuo a percepire è un profondo ritardo strutturale in questo. potrei citarvi alcuni esempi, cinque anni fa trasferendomi a Londra, rimasi abbastanza colpito cinque anni fa, ho acceso i contratti per quanto riguarda tutte le utenze della mia casa londinese attraverso i siti delle aziende e la cosa che mi ha sconvolto è che due sere dopo, letteralmente due sere dopo, io ho trovato nella mia posta nuova, ero appena entrato nella casa, ho trovato tutte le copie dei contratti perfettamente aderenti, sottoscritte e via dicendo. I servizi bancari di cui usufruisco qui sono sicuramente tecnologicamente più avanzati e molto più integrati tra il mondo digitale e il mondo fisico di quanto sto continuando ad usufruire in Italia. Quindi non ho una precisa fotografia ma mi posso permettere di dire che la mia sensazione è che in Italia siamo ancora in ritardo. Il consiglio che posso dare evidentemente a tutte le aziende italiane che operano in Italia è quello di accelerare perché dal mio punto di osservazione il mondo sta cambiando molto rapidamente e competere su una scala globale significa essere protagonisti anche e soprattutto nel mondo digitale.